Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie come si usano gli strumenti di Excel professionale, i tutorial che ti mostrano come sono fatti e come si utilizzano gli strumenti che metto a disposizione. In questo video vediamo come si usa il registro delle presenze e delle assenze. Quello che stai guardando è il pannello di comando appunto dello strumento. Lo strumento è un dimostrativo che puoi scaricare, anzi che ti invito a scaricare e a utilizzare appunto per registrare le presenze e le assenze correlative emotive dei tuoi collaboratori. Iniziamo dicendo che lo strumento non è semplice, davvero, perché per fare in modo che lo strumento sia flessibile, sia automatizzato e sia dinamico, ok, è necessario praticamente leggere con attenzione le istruzioni che si trovano in quasi tutte le pagine. Io ti invito a cercare i pulsanti istruzioni come questo e a cliccarci sopra appunto per visualizzare le istruzioni, ok? Partiamo naturalmente dal pannello di comando. Quello che stai guardando è il pannello di comando, di controllo, semplice, classico, è composto da pulsanti. La maggior parte di questi pulsanti, quelli blu scuro, permettono di saltare alle funzionalità. Quale funzionalità? Cioè fondamentalmente alle altre pagine che sono state predisposte. I primi due pulsanti sono collegati alle maschere mensili che sono già state predisposte o che verranno predisposte, ok? Il primo mese clicca naturalmente sulla prima maschera mensile in cui vengono, anzi sono già stati registrati dei dati, sono dei dati d'esempio, ok? E naturalmente l'ultimo mese salterà lateralmente all'ultimo mese, ok? Invece gli altri pulsanti, come vedi, presenze, assenze, ferie, permessi, saltano ai delle sintesi, ai rendiconti, ok? Le presenze fondamentalmente ti mostrano una tabella che riprende i dati dalle maschere che abbiamo visto poco fa, cioè dalle maschere mensili, queste, ok? E naturalmente le riporta grazie naturalmente a delle formule, ma non soltanto, ok? E quindi fondamentalmente ti permette di visualizzare il totale mensile delle ore di presenza in questo caso, piuttosto che delle assenze, come in questo caso. E questo per darti un colpo d'occhio senza dover consultare le maschere mensili, ok? Ma ci sono anche due fogli, due funzionalità, una relativa al calcolo delle ferie e l'altra relativa al calcolo dei permessi che vedremo però fra poco. Partiamo dalla funzione più importante che è quella della maschera, della maschera di inserimento dei dati, che sono le maschere mensili. Ne sono già state predisposte 6 e come vedi hanno un nome particolare, puoi leggere qui in basso, 24 sottoscritto gen. Questo non è importante per permettere soprattutto alle formule di poter individuare e richiamare i dati, ok? Naturalmente dove? Nelle maschere di sintesi, nei rendiconti. Allora, vediamo un attimo questa maschera, anzi partiamo da una maschera, dalla maschera master, che è una maschera vuota. Questa maschera fondamentalmente è composta da diversi elementi. L'elemento principale è quella della tabella, la tabella in cui vengono registrate le presenze e le assenze, ok? Questa tabella ha naturalmente a sinistra l'elenco dei nomi di dipendenti, puoi scegliere naturalmente, come vedi, qui da un elenco predisposto per poter poi andare a inserire le ore, ok? L'elenco predisposto lo puoi trovare nella pagina liste, ok? E naturalmente io ti invito ad aggiornare l'anagrafica che è qui presente. Nomi dipendenti 1, 2, 3, eccetera, devi semplicemente o modificare i dati o, diciamo così, andare a indicare il nominativo aggiungendolo in fondo, ok? Nella prima riga libera. Torniamo naturalmente alla maschera master. La prima cosa da fare, se vuoi aggiungere un nuovo mese, qual è? Bene, la prima cosa da fare non è compilare i dipendenti, è prendere praticamente la pagina master che è qui. La pagina master dovrà sempre rimanere intonsa e immodificata, ok? E prendere la pagina master e naturalmente crearne una copia. In modo più veloce è premere control, o meglio tenere premuto control, poi col pulsante sinistro andare a cliccare sulla linguetta in basso e come vedi il cursore è cambiato, mi mostra che abbiamo preso, letteralmente stiamo trascinando, che cosa? Una copia della pagina, ok? E poi spostarla a destra come ultima pagina. Ecco, naturalmente comparirà, potrebbe comparire questa finestra, io ti invito semplicemente a rispondere sì a tutti. Questo è dovuto al fatto che stiamo utilizzando dei nomi personalizzati. Comunque, tu ignora la cosa, clicca su sì a tutti, fondamentalmente il passo successivo naturalmente è quello di andare a modificarne il nome. Quindi se noi vogliamo aggiungere il 24 luglio, quello che dobbiamo fare è rinominare la pagina. Quindi io ho cliccato due volte, ma puoi utilizzare anche il comando che trovi nel menu contestuale che puoi richiamare naturalmente cliccando con il pulsante destro del mouse sulla linguetta. Quindi utilizziamo il comando rinomina e poi lo rinominiamo come, come abbiamo visto, 24 underscore e lug, ok? Premo invio e abbiamo praticamente il nome. Quindi abbiamo fatto una copia della pagina master, l'abbiamo rinominata in modo corretto e poi naturalmente dobbiamo andare a impostarla in modo corretto. L'impostazione in realtà è molto semplice. Qui in alta destra, vedi qui in alta destra, perfetto, c'è l'anno e il mese. L'anno va bene 2024, naturalmente per il nuovo anno dovrai modificare e inserire per esempio 2025 e il mese dovrai selezionarlo dall'elenco ed è il mese di luglio, perfetto. Questo perché? Perché il calendario in questo modo si auto-aggiorna molto semplicemente in automatico. E poi quello che devi fare naturalmente è compilare l'elenco dei dipendenti. Puoi tranquillamente copia e incollare l'elenco, ok? Per poi andare se appunto ci sono delle assunzioni o licenziamenti oppure diciamo eccetera eccetera, puoi andare a modificarlo come tu vuoi. Però semplicemente vai a copiare l'elenco dal mese precedente. Cosa che possiamo fare all'istante, come facciamo? Andiamo nel mese precedente, selezioniamo le celle, premo ctrl c per copiarla, poi naturalmente torno indietro e naturalmente ti invito a incollare nella posizione giusta l'elenco dei nominativi. Ecco, ti invito a incollare solo i valori. Lo puoi fare naturalmente utilizzando l'icona apposita, qua l'icona, in maggioranza tu già la conosca, passo con il pulsante full norma screen alla visualizzazione standard normale, torni indietro, ripremo di nuovo ctrl c per poi tornare praticamente nel nuovo mese e vado a utilizzare, posso andare a utilizzare appunto il comando qui dal menu incolla, ok? Quindi per esempio incolla valori, il primo comando perfetto e li ho incollati. Puoi utilizzare naturalmente anche la finestra incolla speciale utilizzando i tasti veloci ctrl alt v, ctrl più alt più v, oppure utilizzando il comando che trovi all'interno sempre della finestra incolla, ok? Ok. Una volta che hai inserito i nominativi ebbene inizi a inserire le ore, ok? E l'inserimento delle ore è molto semplice. Per quanto riguarda le presenze non devi fare nient'altro che inserire le ore svolte, per esempio 8, 8, 8, 8, 8 e come vedi via via che vengono inseriti i numeri, i totali che sono qui a destra sia dell'assenza che delle presenze vengono aggiornati in automatico. E nel caso ci fosse un'assenza deve seguire un formato particolare, è il formato che è descritto qui in alto. Ma fondamentalmente questo prevede che in caso di assenze ve ne vengano registrate non come un semplice numero, ok? Ma con una stringa particolare che mostra le assenze prima delle presenze, ok? Per poi andare a indicare sempre e comunque anche le presenze. Per esempio se uno si è ammalato ed è stato assente l'intera giornata andremo a inserire 8m, perché m in realtà è il carattere che come vedi è indicato qui nella leggenda destra, leggenda assenze. Quindi f è ferie, p è permesso, m è malattia eccetera eccetera. Quindi 8m ma non abbiamo finito. 8m spazio e deve essere sempre uno spazio tra l'indicazione delle presenze e l'indicazione delle assenze e poi le presenze. In questo caso la presenza è 0, quindi andremo a indicare 0. E come vedi il totale si è aggiornato. 40 ore di presenze e 8 ore di assenze. Assenze per malattie vengono anche indicate nella colonna delle malattie. E se invece vengono prese per esempio dei permessi, per esempio 2 ore di permesso e quindi 6 ore lavorate, ebbene si indica in modo simile. Questo tipo di formato di inserimento è necessario. Questo perché? Perché rende più semplice a formula e funzione oltre che all'automazione, perché in realtà i totali vengono calcolati anche grazie a un po' di automazione, rendono più semplice appunto andare a registrare nella stessa tabella, nelle stesse maschere mensili, sia le presenze che le assenze. Ok? Comunque nelle pagine predisposte, nelle maschere mensili predisposte, che noi possiamo andare a vedere come vedi giugno in realtà è vuoto, nelle prime tre sono già stati predisposti e impostati degli esempi, ok? D'esempi di indicazione, relativi a ferie, malattie, eccetera eccetera, che io ti invito a consultare. Ok? Ok. Parliamo un attimo invece delle sintesi, o meglio dei resucconti, i totali delle presenze e delle assenze, che noi troviamo come abbiamo già visto naturalmente nelle pagine relative alle presenze, ok? E queste pagine come vedi in sintesi mostrano una semplice tabella, una tabella che però è una tabella unica che mostra i totali mensili. Qui c'è sempre il nome del dipendente, ok? Poi come vedi la seconda colonna mostra il totale globale, ok? Delle presenze delle assenze e poi a destra ci sono le colonne che contengono i valori mensili che vengono ottenuti naturalmente dalle maschere mensili, quelle predisposte, ok? E come vedi è già stato predisposto all'incirca due anni, quindi 24 mensilità, ma in realtà tu puoi ampliare queste tabelle. Queste tabelle possono essere ampliate sia verticalmente che orizzontalmente. Vale anche nelle maschere precedenti, eh? Se uno ha per esempio 20-30 dipendenti, bene, le maschere naturalmente possono essere ampliate. Come? Semplicemente uno arriva qui, non fa nient'altro che inserire la riga, ecco. In questo modo fondamentalmente la tabella rimane sempre attiva, dinamica, automatizzata, eccetera, eccetera, e verrà ampliata in automatico e tutto di conseguenza verrà importato anche nelle pagine di sintesi dei totali, ok? Ok. Naturalmente è fondamentale che se aggiungi nuovi dipendenti, se apri le maschere qui, tu lo faccia anche nelle maschere dei totali, quindi ritorniamo in presenze, non devi fare nient'altro che aggiungere delle righe anche qui. Selezioni, inserisci la riga, utilizzo i tasti veloci, ok? Quindi il tasto veloce, in particolare il CTRL più. Premendo insieme CTRL e il più del tastellino numerico si aggiunge la riga, ma lo puoi fare naturalmente utilizzando il comando che trovi nel menu contestuale, che puoi richiamare con il pulsante destro del mouse e clicchi su inserisci, come vedi è stato inserito un'altra riga. E quindi, non dovrai fare nient'altro che aggiungere la riga e poi inserire il dipendente. Inseriamo uno uguale al precedente e come vedi tutti i dati vengono importati di conseguenza. Quando hai un nuovo dipendente, che cosa devi fare? Devi andare nella pagina liste, aggiungere il nuovo nome, se vuoi la posizione, il ruolo eccetera eccetera, nelle ore giornaliere, praticamente le ore settimanali, ok? In questo modo la data di assunzione per esempio il 15, 5, 24, ok? Per poi tornare per esempio nelle presenze e andare a individuarlo nell'elenco e poi inserirlo e di conseguenza compariranno anche le ore. Nel nostro caso, non avendo registrato nelle maschere vensili non compare nulla, però se andiamo per esempio a prendere un dipendente diverso, o meglio un dipendente già esistente che è già presente qui sopra, ti evito a fare attenzione a non inserire i duplicati, verranno importati in automatico le ore. E questo per quanto riguarda la gestione di nuovi dipendenti, ok? Sia per le maschere e sia per i totali, quindi le pagine di sintesi, di presenza e assenza eccetera, ok? E nel caso che tu debba ampliare la tabella verso destra, ok? Cioè hai già registrato due anni, ok? Devi aggiungere delle colonne o nel caso che tu hai scaricato questo file diciamo fra un anno o due anni, cosa devi fare? Bene, devi semplicemente andare a reimpostare il nome delle mensalità qui in alto. Le mensalità, come avrai già notato, hanno lo stesso nome delle pagine ed è fondamentale che rimanga con precisione lo stesso nome, ok? E quindi se dovrai per esempio andare a impostare questa tabella e lo utilizzerai a partire da giugno, ok? Cosa devi fare? Impostare correttamente i nomi, ok? Qui presenti, scritto 24 giugno, perfetto, e come vedi i dati sono scoparsi i dati precedenti, sono scoparsi perché a giugno non è registrato nulla, 24 luglio, perfetto, ecco c'era 62 ed è scomparso naturalmente da destra. Questo perché? Perché il nome è stato aggiornato in automatico con un nome che non è presente, vedi 24 luglio 2, non segue la formattazione e naturalmente deve essere modificato. Questo per mostrarti che in realtà la tabella è reattiva, ma puoi anche ampliarla a destra, inserendo letteralmente le mensalità dei nuovi anni. Come? Non devi fare nient'altro che spostarti a destra e andare ad aggiungere nella prima colonna libera il nuovo nome, 26 gennaio, in questo modo. Le formule si dovrebbero copiare in automatico, ok? Nel caso come questo non si copia in automatico, io ti invito a copiarle tu, quindi semplicemente selezioni intera colonna, ok? Lo puoi fare utilizzando il cursore in questo modo, ok? Premi CTRL C e poi naturalmente premi CTRL V. In questo modo abbiamo generato il 24 gennaio, non riporta ancora dati, questo perché non c'è ancora la mensilità, anzi io ti invito a predisporre prima la maschera mensile per poi aggiornare praticamente queste tabelle, ok? E poi naturalmente la puoi ampliare. Quanto la puoi ampliare? Fondamentalmente anche centinaia di anni, non è quello che credo ti interessi, ok? E questo è un esempio di come si gestisce questa tipologia di pagina, ok? Ok. Le altre pagine sono simili, le pagine delle essenze presentano fondamentalmente la stessa struttura, le stesse impostazioni e ti invitano a utilizzarle in uno stesso modo, quindi se hai bisogno di aggiungere dei dipendenti, ti invito ad ampliarle verso il basso, quindi ad inserire delle righe e naturalmente se devi reimpostare delle mensilità a riscrivere praticamente i mesi che sono qui in alto, dopo naturalmente aver predisposto le maschere mensili relative, oppure se hai bisogno di ampliarle verso destra e aggiungere le nuove mensilità nelle prima colonne libera a destra, ok? Qui. Le due ultime funzionalità che sono ferie e permessi sono simili ma un po' diverse. Questo perché? Perché ti permettono di poter tenere sotto controllo e di gestire le quantità di ore di ferie e di ore di permessi per singoli dipendenti. Come? In modo molto semplice. Andiamo per esempio nelle ferie, nelle ferie la struttura è simile, ok? Abbiamo il nome dipendente, abbiamo naturalmente le mensilità a destra, ma abbiamo delle colonne in più. Queste colonne quali sono? Sono intanto il saldo iniziale delle ferie. Quando inizierai a utilizzare lo strumento è molto probabile che ogni dipendente che inserirai avrà un saldo iniziale, che naturalmente io ti invito a inserire. Poi questa colonna che è il correttivo, nel caso appunto ci sia bisogno di fare delle modifiche, di aggiungere dei più o dei meno motivati per varie ragioni che non sto ad esaminare, non è questo il luogo. E poi c'è la colonna ferie maturate al mese, che fondamentalmente deve contenere il numero di ore che il dipendente matura al mese, ok? Per esempio 14,67 ore, ok? E poi c'è il campo numero mesi, il campo in cui devono essere inseriti i mesi di ferie maturate. Inizialmente avevo predisposto un campo calcolato, ok? Basato naturalmente sulle colonne a destra, ma i beta tester mi hanno fatto notare che potrebbe essere necessario inserirlo manualmente, quindi deve essere inserito manualmente. Quindi se vuoi aggiornarlo, ebbene dovrà essere aggiornato praticamente con i mesi corretti. E questo è naturalmente per ogni dipendente, nel senso che se c'è un nuovo assunto, inizierà da 1, mentre i vecchi potrebbero iniziare da 10, 60, eccetera, eccetera, ok? Naturalmente il totale ore ferie è calcolato tramite una formula che tiene in considerazione i dati delle colonne che ho appena descritto, ok? E per quanto riguarda i permessi, ebbene i permessi è analogo, nel senso lo strumento è simile, c'è la tabella che è strutturata nello stesso modo, utilizzabile nello stesso modo, dinamica, con formule ma non solo, ok? Che fondamentalmente presenta le colonne saldo iniziale, correttivo, permessi maturate al mese e naturalmente il numero di mesi che puoi gestire tu manualmente in modo semplice. Se ritieni che non valga la pena gestire manualmente puoi anche modificare, puoi inserire tu una formula, ok? Cioè, se i permessi maturati sono sempre gli stessi, non ci saranno da cambiare. Se il numero dei mesi non prevedono variazione o gestione, puoi inserire una formula molto semplice che va a considerare le mensilità a partire da una certa data. Quindi potrai conteggiare, fra regolette, i valori presenti qui, anche gli zero, a partire da una data ben precisa. Quindi lo strumento in realtà richiede la comprensione di alcune regole di utilizzo fondamentali che abbiamo visto, sia per quanto riguarda le maschere mensili e la loro compilazione, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle maschere di sintesi, soprattutto le stringhe da utilizzare nei nomi delle pagine e nell'inserimento delle maschere delle assenze. Bene, una volta compreso come funzionano, l'utilizzo in realtà è molto semplice, ok? Questo tutorial termina qui e naturalmente io ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, ti invito a visitare il mio sito, excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.